Amiche e amici di Levante Sport TV, eccoci a un appuntamento importante, parliamo di scherma con un ospite importante, lo ringraziamo di essere qui, Giovanni Falcini. Grazie a voi per avermi ospitato qui da voi. Ma è un piacere, maestro della chiava di scherma, chiava di scherma che in questo fine settimana propone un appuntamento importante. Sì, avremo sabato e domenica i campionati regionali nella giornata di sabato assoluti e nella stessa giornata sempre di sabato, nel pomeriggio ci saranno anche gli esordienti, quindi un bel accostamento, un bel abbinamento per chi non ha mai visto la scherma e può venire al palazzetto dello sport e vedere gli anziani, se così possiamo dire, e proprio le nuove leve, proprio i principianti che avranno 9-10 anni, quindi proprio tutta la storia della scherma. La domenica invece ci sarà proprio il Gran Premio giovanissimi vero e proprio, che in pratica è valida anche come prova di qualificazione per i campionati italiani, fase finale sempre di questo Gran Premio giovanissimi, che si disputerà a maggio a Riccione quest'anno, anziché Rimini. Diciamo che la qualificazione sta solo nel fatto, nel partecipare a questa gara e ad un'ulteriore prova interregionale. Nell'insieme delle due giornate prevediamo proprio oggi, qualche minuto fa, ho avuto dal Comitato regionale Ligure il numero delle preescrizioni e saranno 273, quindi oltre a quello che avevamo previsto di 250, quindi sicuramente un bel numero di atleti arriveranno a Chiavari. Beh, sicuramente un appuntamento importante per Chiavari, assolutamente importante per la Chiavari Scherma, ma la Chiavari Scherma è abituata però a fare questi colpi qui. Sì, di fatti ricordiamo l'anno scorso, il 25, 26 e 27 febbraio, la fase finale dei campionati italiani Under 20, che hanno visto la partecipazione di oltre 430 atleti e quest'anno avremo di nuovo la possibilità di rivedere a Chiavari il 2 e 3 giugno di nuovi campionati italiani, ancora più avvincenti se mi posso permettere di dirlo, perché anziché nella fase individuale Under 20 abbiamo la fase finale a squadre, quindi mista, squadre miste maschi e femmine, prevediamo 120 squadre provenienti da tutte le regioni d'Italia, sulla base di quello che è stato lo stesso campionato disputato l'anno scorso a Dancona, dove i partecipanti erano 530. Inoltre, proprio una settimana fa, in occasione di un campionato italiano che si è svolto a Jesolo, ho avuto modo di incontrare il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso, che mi ha dato la possibilità, gli abbiamo chiesto se era possibile fare le finali, che saranno soltanto tre, in quanto essendo gara mista a squadre, quindi nelle tre specialità Fioretto, Spada e Sciabola, le tre finali in piazza. Quindi, se adesso col Comune di Chiavari riusciremo ad ottenere i permessi, abbiamo già avuto un incontro con l'assessore attuale, il Dottor Rombolini, lui forse preferirebbe, anziché fare la fase finale in piazza, noi abbiamo scelto anche per una vicenda già precedente, dove avevamo già svolto in piazza Fenicio un triangolare Italia-Svizzera-Portogallo e lì abbiamo visto che la cornice è effettivamente molto bella, anche perché in quel contesto abbiamo modo di rendere partecipante anche proprio la cittadina, che è un po' lo scopo per cui la Chiavari schermo organizza questi eventi, cioè riuscire a far conoscere il nostro sport per riuscire a reclutare dei nuovi ragazzi, che è un po' l'essenziale per rimanere in vita. L'alternativa offerta da loro sarebbe il Parco di Villarocca, che è sicuramente una bella struttura, molto prestigiosa, ma perché c'è il vincolo da parte della Federazione Italiana Scherma che abbiamo l'obbligo di prevedere anche una copertura, una tensostruttura, quindi Villarocca prevede già. Vediamo appunto durante un sopralluogo che ci sarà attorno al 24 di marzo con alcuni dirigenti della Federazione Italiana Scherma, faremo un sopralluogo e in quell'occasione lì valuteremo se le misure sono idonee per Villarocca e in qual caso vedremo un attimino se riusciremo invece a dirottarla su Piazza Fenice. Certamente, comunque sia, o Piazza Fenice o Villarocca direi che l'appuntamento è prestigioso, è bello, coinvolgente, perché sicuramente la cornice di pubblico sarà importante. Chiaro di scherma, tutto sommato si sta muovendo molto bene, ma con un obiettivo futuro secondo me è molto 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 attraente e importante. Sì, proprio durante la conferenza stampa che abbiamo fatto, quindi colgo l'occasione per ringraziare il Banco di Chiavari che ci ha ospitato, Paolo Sanguinetti, presso la loro sala, in quell'occasione era presente il consigliere della Federazione Italiana Scherma, ingegnere Renato Buratti, che avrebbe dato il via libera per riuscire a portare a Chiavari, che è un po' il mio sogno, i campionati italiani assoluti. Sicuramente sarà un impegno molto grosso, ma più che altro bisognerebbe riuscire a far capire alla cittadina, ai chiavaresi, l'importanza di questo evento, in quanto sicuramente sarà presente la RAI in diretta, però lì occorrono degli spazi, almeno ci viene richiesto uno spazio da parte della Federazione Italiana Scherma per un giorno, almeno un giorno, che è quello appunto della finale con le riprese televisive e mi è già stato detto che loro avrebbero piacere di farlo in un teatro, a Chiavari c'è solo un teatro, quindi sarebbe il discorso del teatro cantero. Lì sono un po' scettico perché, ripeto, spero e lancio in pratica un messaggio a chi attualmente ha la gestione del teatro cantero, in quanto proprio l'anno scorso in occasione dei campionati italiani c'era stata anche proposta di organizzare a Chiavari l'assemblea nazionale di tutte le società schermistiche italiane, il che voleva dire l'affluenza di oltre 500 presidenti di tutte le società italiane. Il problema non si è fatto perché non siamo riusciti a trovare un luogo che permettesse questa affluenza di persone o perlomeno il luogo poteva essere quello del teatro cantero, però i costi che ci sono stati proposti erano inaccessibili per noi sicuramente, ma sono stati considerati inaccessibili anche da parte della federazione. L'assemblea si è svolta poi a Ravenna dove gli spazi, è logico che rispetto a noi, sono completamente diversi, ma soprattutto le strutture. Lì addirittura è stato un albergo a dare la possibilità a titolo gratuito di poter svolgere questa assemblea, è logico che poi l'albergo aveva il tornaconto nella presenza dei rappresentanti dei societari. Esatto, esatto. Di fatti quello che sto cercando di fare è quello anche di coinvolgere, visto che si parla di Chiavari come cittadina dello sport e un pochettino l'idea era nata proprio durante i campionati italiani dell'anno scorso dove avevo appunto detto che se anche gli altri sport, le altre società, le altre discipline in Chiavari seguissero un pochettino il nostro esempio e riuscissero a creare un evento al mese a livello nazionale, credo che sicuramente la città di Chiavari ne avrebbe beneficio, anche perché per la struttura e per la logistica che ha Chiavari credo che non ci siano scelte da fare se non quello per creare ricchezza di rivolgersi al turismo e al commercio. E qui Giovanni Falcini ha anticipato un po' quello che per me doveva essere un po' con l'approfondimento di questa notizia, è importantissima la notizia delle fasi regionali, dei campionati regionali questo fine settimana, però in prospettiva molto interessante il discorso che facevi che è quello di creare a Chiavari, città dello sport, un movimento legato allo sport e al turismo. Da questo punto di vista mi pare di capire che potremmo anche cercare di allargare il ragionamento, oltre che Chiavari poter dire se tutto il Tiguglio, se tutte le cittadine che si affacciano su questo golfo meraviglioso lavorassero in sinergia, facessero come si usa dire sistema, tanto per usare un parolone, molto probabilmente potremmo arrivare a ottenere un risultato importante. Direi proprio di sì, nel nostro piccolo l'esempio di questi campionati che andremo a fare a Chiavari, a livello alberghiero ad esempio abbiamo coinvolto l'associazione albergatori Chiavari, Lavagna e Sestri. Che è già un modo per spalmare su tre cittadine questo evento praticamente. E credo che la compensazione, proprio perché a mio modo di vedere in quest'epoca dove ormai c'è la globalizzazione e di conseguenza la concorrenza e la parola secondo me chiave è quella appunto di riuscire a offrire dei servizi che possono essere appunto quelli legati agli alberghi o servizi di altro genere a livello di palestre e credo che questo si possa fare soltanto unendo le forze, riuscendo ad avere una sinergia sul territorio e credo anche che magari ogni città del nostro comprensorio abbia magari una sua specializzazione e quindi sfruttare lo sport e la disciplina o quella che è la tradizione più radicata in ognuna di queste città. Questo potrebbe essere sicuramente un'arma vincente. Logico che lo spazio a noi è un po' stretto, nel senso che rispetto ad altre zone dove non hanno problemi di spazio e conseguenti costi partono già con sicuramente dei vantaggi che dobbiamo, però questo gap lo dobbiamo cercare di ridurre offrendo altre cose. Una l'abbiamo già che è quella del territorio che senza nulla togliere è più bello sicuramente rispetto a tante altre zone e questo credo che possa essere già una cosa positiva. Sicuramente penso che ci sia gente che molto volentieri verrebbe qui, si allenerebbe, farebbe attività sportiva volentieri qua. Però ragionando ancora sulla sinergia, mi viene in mente che questo fine settimana, ad esempio, oltre a questo appuntamento della scherma, c'è un altro appuntamento importante e significativo che è la marcia delle due perle, passiamo dal palo alla frasca, dalla scherma al podismo. E' bene, ed è domenica. E' bene, è un modo per coinvolgere però tutto il tiguglio, perché effettivamente tutto il tiguglio può offrire molto. Magari ragionando un po' meglio sulle date, perché qui c'è la cavalassi di due manifestazioni che potrebbero essere entrambe molto molto partecipate. Certo, questo in effetti è un aspetto sul quale bisognerebbe avere una sinergia maggiore. Quando si creano degli eventi importanti sarebbe bene avere un calendario del tiguglio, però qui bisognerebbe che ci fosse una coordinazione che riguardi i vari enti, il territorio, quindi trovare il modo, perché attualmente mi pare che ogni comune stia andando un po' per conto suo. Di conseguenza questa idea che lanci dovrebbe essere raccolta anche perché si potrebbero ottimizzare i costi, che ritengo che sia anche questo un aspetto di non poco conto. riuscire ad avere un calendario e nello stesso tempo far sì che anche sport diversi non vadano a farsi concorrenza e magari si portino via un po' di pubblico l'un l'altro, quando magari ci potrebbe essere la possibilità di averli sparmati su altri fine settimana dove magari non c'è assolutamente nulla, ecco questo... Sì.